Ringraziando Iguaretta Romanov, Janet Lenardi, Matilde e gli altri, devo ringraziare, Miss Italia, Gloria Bellitti, scusate se dimentico qualcuno, capirete, però grazie a ognuna di voi, ci vediamo l'anno prossimo, qui come l'anno scorso, ci vediamo l'anno prossimo e nei prossimi 365 giorni un impegno quotidiano per tutti. Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Pronto? Mi chiamo Alta Merini e sono stata violentata nel cervello, non nel corpo, forse è peggio. Mi chiamo Alta e sono una solitaria, come Sant'Aldo che era un'eremita. Sono nata il 21 a primavera, non credevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenare tempesta. A tutte le donne, una mia poesia? Perché la poesia mi ha salvato la vita. Ricordatevi, la poesia? L'amore e la tenerezza salva la vita. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso. Sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volti e non sai ancora dire e taci, meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Non, non c'è rimane uno scheletro d'amore. Non c'è rimane uno scheletro d'amore. «Je commence avec toi!» «Grazie, grazie, grazie. Adesso sì. Allora, ci sono qui con noi anche le testimonie, se vogliono dire qualcosa. Il microfono è a disposizione per un saluto. Sì, sentite? Sì, posso dire solo una cosa? Forza donne, siamo solo noi, dai!» «Diamo un messaggio. Ci sono i maschi e ci sono gli uomini. I maschi, se sono violenzi, mandateli via. Se gli uomini vanno bene, rispettateli!» «Io voglio soltanto citare Diderot, che diceva che c'è una sola virtù nella vita, che è la giustizia, e c'è un solo dovere, che è la felicità. Ricordatevelo sempre!» «Donne, non abbiate paura! Ricordatevi, li partoriamo noi. L'unico problema è che vogliono tornare da dove sono uscite!» «Graciasi!» «Graciasi!»